Novità e iniziative relative alle attività di raccolta differenziata della città di Pineto sono state presentate questa mattina dall'assessore alle politiche ambientali. In arrivo, a domicilio, i nuovi calendari con le giornate in cui esporre i bidoncini. Con l'occasione del nuovo anno abbiamo cercato di introdurre una serie di novità anche per dare un'impronta nuova e più fresca a tutto il servizio di gestione. Oggi abbiamo annunciato tre cose fondamentalmente. Un nuovo ecocalendario che sarà più semplice da consultare per il cittadino molto più snello con le informazioni principali in cui c'è un nuovo numero verde a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni. E dove abbiamo specificato anche tutti i servizi che noi diamo all'interno del nostro ecocentro che è un po' la perla del nostro servizio di gestione dei rifiuti. Poi abbiamo annunciato anche un nuovo metodo di distribuzione delle buste della differenziata perché avverrà in maniera semestrale con un kit che durerà per sei mesi quindi renderà i cittadini un po' più autonomi nella gestione delle proprie buste posto che il nostro ecosportello qui a Pineto Centro sarà comunque aperto negli orari consueti e rimarrà a disposizione dei cittadini. In più stiamo pensando entro l'estate di creare un'applicazione che sia facilmente scaricabile sul proprio telefonino dove il cittadino può accedere autonomamente a tutte le informazioni e anche alla raccolta giornaliera. Questo l'abbiamo pensato anche per i turisti perché giustamente noi d'estate dobbiamo rinforzare comunque la raccolta e cercare di mantenere la qualità. Questo si può fare informando bene anche chi non è di Pineto ma si trova qui per una, due o tre settimane nel periodo di vacanza.